Dopo mesi di silenzi e attese, il Comitato Civico Statale 18 di Acquafredda di Maratea rompe le righe con una nota che chiede al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, di farsi interprete delle loro istanze, fino ad oggi disattese. Prima di tutto chiedono un confronto pubblico con le parti interessate dai lavori in corso per la messa in sicurezza della Statale 18 tra Sapri e Maratea. Un incontro con i cittadini di Maratea, spiegano dal Comitato, che secondo quanto era stato promesso il 20 gennaio scorso durante la riunione tecnica in Regione, si sarebbe dovuto tenere entro i primi giorni di febbraio, ma fino ad oggi non è stato ancora programmato. Il Comitato Civico è convinto che sia al momento, a due mesi dall'apertura del cantiere, che l'ANAS porti a conoscenza della popolazione il cronoprogramma dei lavori da eseguire, auspicando che nella fase esecutiva vengano rispettati i diritti e mitigati i disagi della comunità. Il Comitato di cittadini ha chiesto al Presidente regionale della Basilicata di farsi portavoce delle loro richieste, ancora oggi in attesa di risposte. Tra le loro proposte contro i disagi, l'integrazione delle fermate dei treni regionali da e per Maratea-Sapri, nelle stazioni di acqua fredda e marina di Maratea, e poi l'immediata disponibilità del cronoprogramma dei lavori per conoscere i periodi di eventuale chiusura della statale, anche in considerazione dell'imminente inizio della stagione estiva. I cittadini chiedono anche di verificare se il materiale di risulta delle perforazioni delle gallerie è idoneo per il ripascimento delle spiagge di Maratea più compromesse dall'erosione, e se lo è, di predisporre un piano di restauro della costa marateota. Per il Comitato è necessario anche che le autorità regionali e locali inizino a ragionare su come utilizzare l'attuale tracciato della statale 18 quando sarà bypassato con le gallerie in costruzione, troppo suggestivo per essere destinato all'abbandono. Questi i punti sui quali i cittadini di acqua fredda terranno alta la guardia. Ora si spera in un intervento del Presidente della Basilicata.